Buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, martedì 19 giugno, in partenza per Milano. Vediamo che cosa succede. La cosa che oggi mi ha colpito di più è stata decisamente la condanna a un anno di carcere, che ovviamente non farà perché è sotto, mi sembra, le soglie del carcere, anche se già ha avuto una condanna, è comunque in primo grado per Roberto Manoli, presidente della regione Lombardia. Il motivo per il quale è stato condannato è molto semplice, è stato condannato perché avrebbe segnalato, anzi ha segnalato secondo la sentenza una sua collaboratrice in una azienda controllata dalla regione ed è stata assunta con un contratto di 29.500 Euro di consulenza, il che vuol dire che nette sono, calcoliamole, a 18.000, sono 1.400 Euro al mese, quello che conto ovviamente non è i soldi, che si è preso ma l'intervento del presidente della regione, che è stato assolto peraltro per un'altra maniera, per un'altra accusa di indebite molto peggiore ed è anche sotto le soglie Severino. Che cosa mi ha fatto pensare tutto ciò? In un'intervista peraltro che oggi leggete su Corriere della Sera che Maroni sostiene che poi inseguire il grado verrà assolto e glielo auguro. Cosa mi fa venire tutto ciò? Non riesco a capire perché i giornali non hanno messo insieme una condanna a un anno di carcere a Maroni perché ha consigliato una sua collaboratrice che lui evidentemente stimava molto a una controllata regionale che poi gli ha dato una consulenza, alla signora Raggi o al signor Bonafede, il sindaco di Roma e un responsabile enti locali, oggi ministro della giustizia, che hanno consigliato alla Raggi appunto questo Lanzalone, un avvocato, quindi un uomo che ha un conflitto di interessi come dite voi gigantesco contro una capanna e questo avvocato è diventato presidente della Acea. Oltre a essere stato presidente della Acea è stato arrestato recentemente a Roma dal PM Iero che nel frattempo insieme a altre otto persone l'ha chiuso in carcere perché avrebbe avuto un atteggiamento corruttivo nei confronti della questione dello stadio di Roma. Allora io mi chiedo, se Maroni viene condannato un anno per aver segnalato una persona, cosa dobbiamo pensare del ministro della giustizia e passato responsabile degli enti locali che consiglia una persona da Raggi di fare delle consulenze gratis e poi per ricompensarlo lo nomina la presidenza retribuita della più importante municipalizzata di Roma? Non l'ha nominato all'interno della municipalizzata come ha fatto Maroni per una piccola ruolo di consulenza. No, l'ha fatto presidente! Questo avvocato è diventato presidente. Prima ha lavorato gratis per loro e poi dopo aver lavorato gratis per loro l'hanno fatto presidente. Allora in questo caso quando il ministro della giustizia ieri a otto e mezzo si permette di dire che sente persone che starnazzano. Caro ministro della giustizia non stiamo starnazzando, stiamo in una logica molto semplice e la stessa logica che voi gridini o gridozzi come li chiama Ferrara avete avuto fino all'altro ieri e cioè che se un vostro uomo segnalato da voi diventa presidente di una municipalizzata forse una domanda ve la possiamo fare o no? Almeno una domanda, non è starnazzare, voi che facevate i fenomeni. Altra questione grande di giornata, Silvia qual è il grosso conflitto di interessi di Maroni? Può essere che ci sia ma è simile a quello che ha un signore come Bonafede che nomina all'interno, fa nominare all'interno attraverso la raggi, sua compagna di partito, fa nominare il suo avvocato presidente della scena. Ma andiamo avanti e un'altra cosa che mi diverte moltissimo è la zingarata come lo ha titolato il giornale, cioè l'idea di Salvini di fare un'anagrafe anche per i Rom. All'inizio ha detto censimento, poi siamo arrivati all'anagrafe. L'anagrafe ha scandalizzato tutti, il censimento ha scandalizzato tutti quanti, tutti contro Salvini, si tratta di un atteggiamento nazista, gli ebrei che si arrabbiano per questa cosa. Io come sapete non è che sono filo ebrai e israele di più, cioè per me Hamas è un gruppo di terroristi e israele combatte da 48 per la sopravvivenza, non voglio lezioni sugli ebrei e qualche volta anche loro dicono delle cazzate, se come Repubblica oggi le mette nei titoli, perché quello che ha chiesto Salvini è banalmente un'anagrafe, vi può sembrare normale che in Italia ci siano persone che non sono registrate? Io devo avere la carta di identità, mi chiedono la carta di identità, ci sono come nota a Sallusti delle zone grigie in cui questo non avviene, è accettabile in qualsiasi paese del mondo? E' chiedere che ci sia un'anagrafe, un censimento delle persone che lavorano, vi sembra una cosa incredibile, vi sembra una cosa da fascisti, da nazisti? A me non lo sembra, comunque sia l'altra cosa molto interessante è che i Casamonica ieri minacciano il ministro degli interni Salvini e gli dicono stai attento con noi ti devi comportare bene, mi sembra cos'è, riga dritto gli dicono i Casamonica, allora poi io mi chiedo una cosa, ma quando si riceve l'attacco di un mafioso come Casamonica nei confronti di qualche altro ministro cosa ci sarebbe stato? Ci sarebbe stato un coro di indignazione, centinaia di persone pronte a dargli solidarietà? Non mi sembra che ci sia tutta questa solidarietà nei confronti della zingarata o comunque di Salvini, insomma se ne fottono perché Salvini, voglio dire no, è Salvini, quindi gli si può dire qualsiasi cosa, così come quando lui diceva nelle nostre trasmissioni sull'immigrazione che bisognava controllare, le porti magari si dovevano chiudere, tutti lo prendevano per scemo, oggi anche i più duri, mi sembra che almeno sul fatto che noi non possiamo essere lasciati soli in Europa sono tutti d'accordo con lui. Garavaglia, vice ministro dell'economia, oggi ribadisce sul sole 24 ore la flat tax, la flat tax al 15% dovrebbe partire per le partite IVA e si dovrebbe allargare il regime dei forfettari e dei minimi che oggi si applica soltanto a certi criteri di reddito e soltanto a certe persone. A ragione Laura, i censimenti li fa anche l'Istat, detto questo, chiudiamo la parentesi, sarebbero 1,5 milioni le partite IVA e con Volt, dubito che si riesca a una partita come me a portare le tasse al 15%, ci metto una mano sul fuoco, se mi portano le tasse al 15% con la flat tax nel 2019 io faccio un monumento, mi compro un microfono migliore rispetto a quello che sto usando oggi per dire una cavolata. Di Maio invece sempre a sole 24 ore in un'intervista ci spiega la sua logica che è esattamente uguale a quella della sinistra, identica, cioè i contratti a termine devono essere banditi e soprattutto all'interno dei contratti a termine, mentre fa finta di semplificare spesometro, redditometro, aumenta le complicazioni con l'indicazione della casuale. Quando gli chiedono, ma guarda che qua aumenterai il contenzioso, il ministro del lavoro, appena diventato ministro del lavoro, che non ha mai lavorato in vita sua, non ha mai usato questa cosa contro di lui, ma lui non ha mai lavorato in vita sua, dice, ma perché non è vero, se c'è la casuale, ma che pensate che ci siano maggiori complicazioni? Sì, ci sono maggiori complicazioni, se devi metterla casuale per il contratto a termine terminato è banale, puoi farlo, puoi decidere di farlo, ma ci sono maggiori sicuramente complicazioni, va bene? Sì, Anno, anch'io mi riavolo che si realizzera la flat tax. L'altra cosa incredibile, le altre due cose incredibili è che è stato fatto secco il capo dell'Audi, è una cosa che io trovo gigantesca da prime pagine dei giornali, mentre ovviamente la pubblicità dell'Audi, anzi guardate mi trovo qua, aspetta che ve lo faccio vedere, sono circondato, lo vedete, Audi, sono nell'aeroporto, è tutto un Audi anche qua all'aeroporto della Sardegna, è pieno di pubblicità e anch'io c'ho rispetto nei confronti della pubblicità, abbiamo un po' di timore a parlare del capo dell'Audi che dopo Dieselgate che inizia nel 2015, nel 2018 viene arrestato, il capo dell'Audi che è una controllata della Volkswagen, hanno già richiamato mi sembra 100.000 a 6 e a 8 o a 4, ma la cosa straordinaria è che se lo sono bevuto dopo 3 anni, io trovo una cosa incredibile, uno scaduto incredibile Audi e Volkswagen che come vi ricordo sono anche per un pezzo controllate da una regione tedesca, cioè sono in parte pubbliche, arrestato per Dieselgate perché cosa faceva? Truccava le prove, dopo 3 anni lo arrestano, truccava le prove, sono passati 3 anni, io trovo che se la giustizia italiana fa schifo, ogni tanto guardando le altre ti viene da ridere. Certo la cosa più disgustosa, schifosa di oggi è quello che ci scrive Alessandro Gnocchi con questo chiudo sul giornale, cioè la docufission di quelle merde, se così si sono comportate di Netflix, merde di Netflix, perché un editore, e Netflix è un editore, non può permettere che siano fatte 3 puntate di un docufission sul Bataclan senza dire la matrice islamica del Bataclan, queste cose sono disgustose, un editore deve avere il coraggio delle proprie azioni, cioè si passa da considerare un fascista, un nazista, un razzista Salvini perché dice una cosa normale, cioè l'anagrafe di tutte le persone che vivono in Italia e poi si accetta che Netflix possa fare 3 ore di docufission sul Bataclan come scrive oggi bene il capo della cultura del giornale Alessandro Gnocchi senza dire la precisa matrice islamista che il Bataclan, come vi ricorderete quelle immagini disastrose di morti, ha avuto, cioè se non dici quello che cazzo lo fa a fare questa docufission? Cosa la fai a fare? Vabbè, insomma io direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo, ci sentiamo più tardi sempre sul sito nicolaporro.it, domani con la zuppa di porro, se vi è piaciuta condividete. Un subito saluto a Francoise da Casteddu ma anche da Nicola perché sono nella sua regione che sto abbandonando ora per andarmene a Milano. Sottomissione c'è regione, Silvia si ricorda esattamente il libro di Hullabec che consiglio a tutti quanti di reggere, ora Netflix ha in ruolo anche Obama, il cerchio si chiude, vabbè insomma, falsi come Giuda, mi sembra una cosa incredibile. Ciao!